Quinta vittoria consecutiva per l'Euro Giri Falco, inframmezzata da una partita ancora da recuperare, quella con il Badolato si recupererà giorno 20, è il pareggio interno con il Pianopoli, quindi una seconda parte di girone di andata che sta davvero dando a belle soddisfazioni. Michele Cristoforo un po' acciaccato anche perché non sta tanto bene, lo ringraziamo per essere ai nostri microfoni. Sì, come avete detto, 5 vettori di fila di cui 3 fuori casa sui campi di Stegnano, Moneseraggi, quella di Mileto domenica, il Mileto è una buonissima squadra, intanto abbiamo vinto per 2-0. Oggi pure, secondo me non abbiamo giocato tanto bene, però ci servivano i tre punti per fare questa lunga serie di vittorie e per adesso va bene. Avete incontrato un caolone ben messo in campo, anche voi avete giocato, secondo me, abbastanza bene perché avete controllato, quindi non avete dato molte possibilità, specialmente a quel numero 9 che domenica scorsa ha fatto ben tre gol a Borgia. Sì, sì, come gioco in avanti abbiamo fatto poco, secondo me, perché il portiere ha fatto due o tre interventi, è stato bravissimo. Poi la loro difesa, finché c'è stato Sgambelluri, è un ottimo giocatore, teneva bene la difesa. Poi è dovuto uscire e abbiamo avuto tre o quattro occasioni per segnare. Adesso ci toccano prima di Natale due partite, una con il Borgia, domenica e poi mercoledì dopo con il Badolato. Speriamo bene, speriamo. Infatti stavo dicendo 20 punti e domenica prossima incontrate proprio un Borgia a 20 punti. Un bel derby davvero a parità. Io spero, spero che sia una bella giornata prima climatica, così verrà tanta gente. Noi speriamo che si riempia tutta la gradinata, perché noi vogliamo dare sicuramente pure il Borgia una bella, che sia una bella sfida. Ma non mancherà sicuramente a giri falco il pubblico delle grandi occasioni. Grazie Michele. Trasferta, diciamo, seconda trasferta purtroppo non benevola per il Caolonia che si stava riprendendo qui nel centro della provincia catanzarese. Mister Squillace. Avete giocato bene, avete tenuto bene fino a un certo punto. Poi il gran gol di Quirino vi ha un pochettino messo alle corde. Dice sicuramente bene. Penso l'analisi sia rispecchi l'andamento della partita. Il Caolonia non è certo venuto qui a difendersi o a chiudersi dietro, ma ha cercato di giocare con palla a terra, anche se non sempre è facile, perché c'è sempre comunque da tenere conto delle capacità e delle qualità dell'avversario. Probabilmente con un pizzico di egoismo mi permetto di dire che magari il risultato di 2-0 ci penalizza oltremodo, perché probabilmente in qualche situazione di ripartenza se avessimo sfruttato meglio le occasioni avute e avessimo avuto un po' più di determinazione magari stavamo parlando di un altro tipo di risultato. Dispiace perché magari con tanti ragazzi giovani, soprattutto oggi in campo, non è facile tenere la pressione neanche a livello mentale. Diciamo che probabilmente prendendolo un pochettino sul ridere che i tre gol di Giavara domenica scorsa a Borgia hanno fatto che il girifalco stesse attento e lo marcasse stretto. Sono assolutamente d'accordo. Secondo me oggi è stata la difesa del girifalco, è stata sicuramente attenta e ha concesso poco. Il ragazzo probabilmente non ha inciso entrando in partita come l'ho fatto domenica scorsa, perché al di là di quelle che sono state le poche palle che ha avuto a disposizione, l'ho trovato un po' leggerino. Quindi in settimana sicuramente bisogna rilavorare sotto questo punto di vista per far capire ai ragazzi che ci vuole un po' più di umiltà in campo. Comunque pagate la cattiva partenza, certamente non siete squadra da due punti e da ultimo posto in classifica. Adesso dovete rimborcarvi le maniche perché altrimenti si rischia di retrocessione diretta, purtroppo. Questo è sodato, è chiaro che noi dobbiamo pensare ad affrontare ogni partita come se fosse l'ultima della stagione. Sicuramente paghiamo una partenza ad handicap perché magari le cose sono state fatte con un po' di ritardo. Si sta lavorando da un bel po' di tempo e sicuramente la squadra ha preso una sua fissionomia. Grazie a tutti.